Buonasera a tutti, io sono Paola Volte, lavoro come giornalista e videomaker. Io credo profondamente nella comunicazione e per l'amministrazione del futuro spero che si riesca ad investire di più in questo tema. Noi ci stiamo provando. Il nostro programma è un programma incentrato sulla comunicazione perché vogliamo aprirci a tutti, non solo a Vidigulfo ma anche come è stato detto alle frazioni e fare in modo che i cittadini siano partecipi di quello che è la vita comunale. All'interno del nostro programma abbiamo inserito una serie di idee, di iniziative che se ci darete la fiducia porteremo avanti. Una di queste è per esempio lo sportello d'ascolto. Altre azioni che vorremmo proporre sono quelle per esempio dei consigli comunali dedicati ai cittadini. Anche per chi non potrà partecipare ci saranno le videoregistrazioni. Altra cosa importante è l'uso delle nuove tecnologie per arrivare a tutti. ma non dimentichiamo i mezzi tradizionali. In questi anni sono state trascurate le bacheche. Sono degli strumenti semplicissimi che permettono all'amministrazione di arrivare e comunicare con tutti i cittadini. Un'altra cosa importantissima è il bilancio partecipato. Perché? Mi ricorrego a quello che diceva il collega Michele Alberi. Il bilancio partecipato è importante, importantissimo perché dà la possibilità a tutti i cittadini di decidere, di scegliere laddove possibile come investire i soldi pubblici.